Direi che va benissimo così a tutti, poi è normale, noi eravamo in casa, eravamo chiamati comunque a vincere, ci abbiamo provato fino all'ultimo, anche nelle difficoltà, nelle avversità, sappiamo purtroppo che Immobile si è fermato a metà primo tempo e questo preoccupa oltre che per la partita di oggi, per l'immediato, ma soprattutto per il futuro, per il proseguo della stagione, però ragazzi, io questa cosa ve l'avevo già anticipata, partiamo con questo discorso, io quest'estate vi avevo detto attenzione a dare un voto superlativo a questo mercato, perché una squadra che punta al quarto posto e vedendo il campionato che stiamo vivendo, siamo fortemente, siccome tra le prime quattro e possiamo addirittura fare di più, ma non senza una punta, oltre di Immobile, è chiaro, non hai neanche un sostituto naturale, non è che dici hai uno scarso, come poteva essere Morici, non ce l'hai neanche, devi adattare cancellieri, ma è lo stesso Sari che non ci crede in cancellieri prima punta, perché sennò oggi l'avrebbe messo, invece l'ha messo a tre minuti della fine, che francamente è stato un cambio quasi stucchevole, allora dagli almeno dieci minuti, perché il ragazzo non ha toccato un pallone, così non crescerà mai, ma perché non ci crede, come non ci ho mai creduto io, io da tre mesi che vi dico cancellieri è un esterno, non farà mai la prima punta, Anderson ragazzi dai, eh per favore, se poi sei anche impegnato, ma l'area era sempre vuota, cioè noi siamo stati poi impotenti dall'uscita di Immobile, non abbiamo più fatto un tiro in porta, nonostante ci abbiamo provato, quindi questo infortunio preoccupa soprattutto per il futuro, è chiaro. Per quanto riguarda oggi, io sono convinto che con Immobile avremmo potuto magari sfangarla questa partita, perché secondo me nel primo tempo abbiamo giocato meglio noi, come gioco, come manovra, loro sulle seconde palle, nelle transizioni offensive, nei contropiedi, sono letali, sono una squadra che, tra l'altro adesso siamo a 21 punti, noi siamo terzi, loro sono quarti, terzo pareggio per la Lazio in questo campionato, quindi non perdiamo, non subiamo gol, questo è positivo, sono una squadra più, diciamo, diretta di noi, più verticale, tirano più in porta, è chiaro, quindi vanno a concludere di più, infatti, comunque se facciamo il conto delle occasioni, forse la partita, la bilancia pende di più verso la squadra friuliana, perché una traversa di Samaric nel primo tempo, bravissimo, è il giocatore, cos'è? Scusate, mi pare sia serba, adesso mi sfugi, però comunque il 2002, bravissimo, che calcia col destro, alza il pallone per evitare l'impatto con Romagnoli, che si era immolato, per evitare la conclusione, Romagnoli a Casale, oggi schierato Casale, partita, secondo me, ottima, guardinga, bravo Casale in crescita, perché è stato pagato tanto e deve essere una risorsa per noi importante, e poi nel secondo tempo l'attraversa nel finale di De Olofeo, che in mezzo a tre lì avevamo un po' dormito, è stato bravissimo, De Olofeo veramente funambolico, svaria tutte le parti, si va a prendere le palle, si crea l'occasione, ha preso una grande traversa, poi per il resto, diciamo che Provedel mi dà la sensazione che per essere superato, tu devi fare veramente qualcosa di straordinario, perché ha fatto una bella parazzu per Eira, sempre attento anche nelle uscite, nel primo tempo ha fatto un'uscita di testa da fuori area, cioè proprio, devo dire, sta andando oltre le più rose aspettative, cioè in questo momento Provedel dopo Meniane, perché Meniane è un altro livello, cioè Vicario che sta facendo bene, adesso Onana che vedrete che è bravissimo, però è il miglior portiere Provedel, quindi questo dobbiamo sottolinearlo, siamo la miglior difesa, perché l'Atalanta ieri ha subito gol, noi siamo sempre a 5, però come vi dicevo, attenzione, perché al di là dell'infortunio di Immobile, però quando si alza il livello, perché adesso l'Udinese equivale ad affrontare una big, ragazzi ormai siamo a 10 giornate con l'Udinese, quest'anno darà fastidio là davanti, magari non per le prime 4, ma per le prime 7 sicuramente, è chiaro, compi c'è anche il calo, magari appunto la Juve, della Fiorentina e compagnia bella, e noi veniamo un po' meno, cioè capisci, noi siamo reduci da 3 partite in cui tu hai fatto 12 gol, ok, quindi non hai subiti, ne hai fatti 4 partita, con squadre anche, perché la Fiorentina non è scarsa, però è in crisi, lo sappiamo, quando si alza il livello e vieni un po' meno, quindi è qua che noi dobbiamo fare lo step, cioè non è possibile che esce Immobile e noi proprio come temperamento, come mentalità, caliamo così tanto, cioè non tutti i giocatori, perché per esempio Zaccani oggi è partita detonante, ci ha sempre provato fino alla fine, Luis Alberto è entrato benissimo, mettilo prima Sarri, perché è l'unico che mi pare che ha dato un po' di verticalità, ha provato a rischiare la giocata, Milinkovic anche se è impegnato, primo tempo ha sfiorato il gol con un colpo di testa, ha messo in porta Felipe Anderson, che lì devi spaccare tutto Felipe, lì devi spaccare tutto, invece quel tiro lì rimane quasi in canna, il colpo in canna, infatti Silvestri sembra che abbia fatto chissà che parata, ma è stato semplicemente fermo e con lo stinco, ma neanche col piede con lo stinco, quindi ha tirato addosso il tiro classico della paura di Anderson, che comunque non ha giocato male, mi è piaciuto, però ho visto una Lazio che esce Immobile, al di là che l'area era vuota, non riuscivamo a riempirle, questo è un problema, perché comunque avevamo due centrocampisti, Milinkovic ha giocato molto alto nel primo tempo, Vessino è di inserimento, però sai, l'Udinese comunque a centrocampo erano in tre, quindi non è che potevi lasciare sguarnito anche la zona nevralgica del campo, però proprio ho visto una squadra meno convinta, Senso Immobile, è chiaro, al di là proprio del problema, che mancava in effetti una punta. Poi, la Lazio ha effettuato questi cambi, Pedro è entrato, oggi Pedro non mi è piaciuto, un po' macchinoso, è strano dirlo, però non ha dato mai qualcosa in più, non ha mai rischiato la giocata, non l'ha mai fatta giusta, con i tempi giusti, però avrei anticipato un po' il cambio di Luis Alberto, che è entrato con grande voglia, perché serviva un giocatore così per far saltare il banco, e anche i cancellieri, perché lo ribadisco, cioè, ok che non va bene come prima punta, sta giocando male, cancelli bisogno di dire, però tre minuti che non tocchi un pallone, inutile, è chiaro. Per esempio, Sottil ha visto Beto che ha giocato male, tra l'altro Beto, che non è un osso facile da rodere, annullato dalla coppia Casano-Romanioli, è entrato successo, ha fatto benissimo, è chiaro. L'Udinese è una squadra, ripeto, magari non che gioca come noi, palla a terra, manovra tanto, però fa male, sono forti fisicamente, e al momento stanno bene. Nel momento in cui magari caleranno un po' fisicamente, allora si vedrà che la qualità non è celsa degli interpreti, è chiaro. Quindi, è una partita che la Lazio doveva vincere, e poteva, secondo me, vincere. Però c'è questa attenuante che, se è rotto Immobile, hai un problema nella rosa, adesso ci sono ancora qualche partita, e speriamo Immobile ci sia, ma io penso che almeno una settimana starà fuori, poi, ipotizzo, forse anche di più, non lo so, sappiamo che Immobile ci è abituato a recuperi Lampo, però poi a gennaio bisognerà intervenire, o comunque, se si crede in cancelliere prima punta, io ci credo poco, però allora si deve provare. Adesso vediamo, per esempio, domenica prossima andiamo a Bergamo, se non erro, quindi, c'è, partita tostissima, perché poi l'Atalanta in difesa sono molto forti, subiscono pochi gol, stanno bene anche loro fisicamente, vediamo cosa si inventerà Sarri, perché non so se domenica ci sarà Immobile, ho i miei dubbi, francamente, perché forse si è fermato in tempo, se ne ha accorto subito, però, problema al fessore, vediamo. Quindi, signori, io, niente, comunque tutta la squadra, secondo me, ha fatto il suo, ha giocato bene, poi, siamo mancati in alcuni momenti, ve l'ho detto, cioè, Anderson, lì devi fare gol, a volte qualche, però anche Lazio ha giocato bene, Maros ci ha fatto il suo, di fronte, comunque, avevamo una squadra che, secondo me, non è fortissima, però, sta bene, è ben allenata, e ha una mentalità, comunque, vincente, chiaro. E, bene, i due portieri, ecco, Silvestri, anche Silvestri ha parlato bene, su Milinkic, su Anderson, benissimo. Ragazzi, che dire, è like, iscrivetevi, commentate, recuperate anche il video dell'Inter, Salernitana, e ci vediamo dopo, bella.